Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno ancora insieme o si sono lasciati? In questi giorni l'influencer di Pomezia è tornata al centro della cronaca rosa per via di una presunta crisi con il rampollo. I due non si sono mostrati insieme per giorni e l'ex corteggiatrice di uomini e donne non è apparsa alla festa di compleanno della suocera. In più è volata negli Stati Uniti per assistere al Super Bowl senza il fidanzato. Si è parlato di una rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta e a complicare ancora di più la situazione è stata una storia Instagram in cui la 27enne ha condiviso una canzone di una delle più romantiche esterne con Andrea Damante. Suo celebre ex fidanzato. A quanto pare solo una speranza dei fan perché per Giulietta il DJ di Verona è solo un ricordo lontano. E nel giorno di San Valentino la De Lellis ha fatto chiarezza. La sua storia d'amore con Carlo Beretta procede a gonfie vele. Martedì 14 febbraio Giulia ha postato una foto insieme alla sua dolce metà. Alla quale è ormai legata da oltre due anni. Un gesto inequivocabile che mette definitivamente a tacere tutta la coppia convive a Milano e l'ex concorrente del grande fratello Vip non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia proprio con Carlo. Che non ha mai esitato a definire il ragazzo giusto. Al momento non ci sono progetti a breve termine ma la voglia di andare avanti insieme c'è ed è tanta. Risulta felicemente single pure Andrea Damante. Che ha ritrovato serenità insieme all'attrice Elisa Visari. Al contrario di Giulia De Lellis. Però, i due hanno preferito non postare nulla di romantico sui loro account nel giorno della festa degli innamorati. Quel che è certo è che un terzo ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis appare oggi più che mai improbabile. A tutti i fan da Mellis. Che tanto hanno sognato in tv con questa love story. Non resta che l'amaro in bocca. Non resta che l'amaro in bocca.